Noi abbiamo questo problema annoso della batteria che è sempre scarica, che non è mai abbastanza e allora bisogna cercare di darci da fare per risparmiare batteria. C'è delle cose che possiamo fare nel telefono stesso, eccetera, delle altre nel modo in cui carichiamo il telefono. E allora, per esempio, una delle cose da fare è non farlo scaricare completamente. Puoi fare anche cariche parziali, quindi quando si carica, non caricarlo completamente. Poi il caldo non gli fa proprio bene, il caldo fa consumare più batteria. E soprattutto una cosa da fare, tipo adesso d'estate non abbandonate gli animali ma nemmeno i telefoni, perché se abbandonate il telefono da qualche parte, scarico, lui peggiora la sua situazione. Quindi non abbandonate, lanciamo la campagna, non abbandonate il telefono. Grazie a tutti!